Un ricco programma che spazia dalla commedia alla tragedia con attori importanti, ma anche una stagione della danza di grande livello. Sono questi alcuni dei punti fermi della stagione 2015-2016 proposta nel Teatro Eliseo di Nuoro dal CEDA, che è il circuito multidisciplinare della Sardegna. Il cartellone degli eventi che verranno ospitati nel Teatro Cittadino è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa ospitata in municipio. All'incontro sono intervenuti l'assessore alla cultura del Comune di Nuoro, Sebastian Cocco, il presidente del CEDA, Antonio Cabidu, e il direttore artistico, Valeria Ciabattoni. Gli spettacoli andranno in scena dal 20 gennaio al 21 aprile 2016, ad inaugurare la stagione Forbice e Forlia di Paul Portner, una commedia che vedrà sul palco attori come Michele Andreozzi e Max Pisu, con la partecipazione di Nino Formicola e di Nini Salerno. Dalla commedia alla tragedia con L'Otello di Shakespeare. In cartellone anche Sono Nate il 23 con Teresa Mannino e i suoi ciralbenesi con Francesco Pannoffino ed Emanuela Rossi. Sardegna Teatro proporrà incendi, mentre la stagione verrà chiusa ad amati da slegare con la coppia Enzo Iacchietti e Giobe Covatta. Intenso e di livello anche il cartellone della stagione della danza, che aprirà il 28 dicembre con il Royal Ballet of Moscow, che proporrà Cenerentola. Seguiranno a febbraio Magic Shadow con la tradizione del Teatro delle Ombre. A marzo Tango Zotto Tango con Miguel Angel Zotto, uno dei massimi esponenti di questa forma artistica. Il cartellone verrà chiuso ancora una volta con un tuffo nel mondo di William Shakespeare con il balletto Romeo e Giulietta. Il cartellone verrà chiuso ancora una volta con un tuffo nel mondo di Giulietta. Il cartellone verrà chiuso ancora una volta con un tuffo nel mondo di Giulietta.